Ciao! Il modifier del quale volevo parlare oggi è un po' speciale. Si tratta del Lineart modifier. Come vedete sono partito da una scena di Blender 3D, diciamo, quindi non in 2D animation, perché è un modifier generativo, quindi di quello che disegna cose nuove in un oggetto Grease Pencil. In pratica può generarci un oggetto Grease Pencil da zero. Difatti uno dei posti dove lo troviamo è facendo Aggiungi Grease Pencil e come vedete ci sono queste tre voci Scene Lineart, Collection Lineart e Object Lineart. Prendo per esempio il primo Scene Lineart. Eccolo qua, ha creato un oggetto Grease Pencil che ha chiamato Lineart e come vedete questo oggetto Grease Pencil ha questo modifier. In questo Source Type capiamo cosa sono quelle tre creazioni, c'è Scene, Collection o Object che sono esattamente gli stessi che vedo qua. Quindi in pratica creandolo da zero semplicemente riempie questa voce. Questo modifier genera delle linee automaticamente, quindi intanto appunto serve un oggetto Lineart che esista. Se non ci fosse sulla scena io potrei anche creare un oggetto Grease Pencil vuoto e aggiungergli il modifier Lineart e scegliere qui le voci Scene eccetera eccetera. Però appunto come abbiamo visto c'è questa opzione che genera da sola alcune cose. In particolare ci genera anche i layer e i materiali. Andiamo a vederli. Abbiamo a disposizione un layer che si chiama Lines già creato appunto in questo modo e un materiale che è Black 002 perché gli altri erano già stati creati diciamo. Quindi magari riparto semplicemente prendendo adesso il materiale Black. E guardiamo appunto questo modifier. In pratica disegna sul livello Lines e con questo materiale. È in rosso perché questo materiale non è più nella mia lista di materiali. Quindi ricordatevi qui di scegliere un materiale e vedete la lista è bloccata ai materiali esistenti tra quelli di questo oggetto. Quindi ammettiamo di avere un altro materiale. Parto da questo e lo chiamo magari Red e lo faccio rosso appunto come dice il nome. Allora adesso questo è Red e qui potrei decidere di disegnare anche in Red. L'altro oggetto del quale questo modifier ha bisogno per funzionare è una camera. Quindi sulla mia scena non ce n'è. C'è ancora questo oggetto Gris Pencil avanzato. Lo butto. Line art e questi tre palazzi. Uno, due, tre. Ho messo degli oggetti un po' complessi solo perché così lo vediamo all'opera meglio. Allora devo creare una camera. Ci deve essere sempre. Appena la creo la camera avrà una sua inquadratura. La inquadro in questo momento da qui. Faccio ctrl alt 0 e vedete che sono apparse delle linee sulla scena. Se esco dalla telecamera vedo che ci sono delle linee posizionate sopra i miei oggetti che quando le guardo così hanno poco senso. Tra l'altro danno questo effetto di trasparenza perché gli oggetti Gris Pencil sono sovrapposti a tutto quanto e quindi se io vado nella visibilità dell'oggetto Gris Pencil mi accorgo che c'è scritto in fronte quindi lo vedo sempre. Se lo togliessi ecco che le linee le vedo solo quando ci sono. Questa spunta viene messa appositamente quando creo questo tipo di oggetto line art perché così sono sicuro che non viene mai mangiata la riga dall'esistenza di geometria e quindi vedete perché altrimenti a volte la geometria potrebbe cancellare leggermente alcune linee mettendo in front sono sicuro che si vede. Si vede attraverso però questa line art generata è fatta apposta per essere guardata dalla telecamera e infatti se ci fate caso anche si interrompe a un certo punto fuori dall'inquadratura della camera e in più si vede che funziona solo da qui. Nel menu view faccio lock camera to view in maniera da poter spostare la camera a mano. Le linee cambiano adesso mi metto di qua e magari mi alzo un po' e vedete adesso ci sono le linee anche qua sopra se esco le vedo che qua sopra questo palazzo ci sono delle linee che prima non c'erano e adesso le linee sono su questo lato. Se torno nella camera e inquadro in tutt'altra direzione come qui ecco che adesso ho linee in un altro posto e non sono più quelle di prima. Quindi questo modifier genera le linee a partire dall'inquadratura della camera principale. Quindi tornando al modifier in questione mi crea delle linee su layer lines con il materiale black. Posso decidere lo spessore. Magari vado a cambiare il colore del world verso un bianco e mi metto in modalità renderizzata. Aggiungiamo anche una luce di tipo sun così possiamo avere delle ombre. Aumentiamo il suo valore e proviamo a ridurre ecco l'intensità del world. Ecco adesso abbiamo delle linee e se torno a selezionare il mio oggetto gris pencil nel modifier lineart posso per esempio aumentare lo spessore delle linee. Disabilito un attimo gli overlay in maniera da poter vedere meglio. Ecco zoomando anche un po' quindi 25 il valore di default. Posso mettere 50, avere delle linee più grosse, posso decidere l'opacità di queste linee e posso andare a scegliere tutta una serie di opzioni con le quali generare tipi diversi di linee. Per esempio vengono create queste, ci sono delle voci vedete silhouette, silhouette individuale, contorno. Se io lo disabilito scompare il contorno di alcuni oggetti. Questo è il crease, cioè una soglia oltre la quale vengono disegnati questi bordini. Le intersezioni tra un oggetto e l'altro, le divisioni tra un materiale e l'altro se il mio oggetto avesse più di un materiale. Gli edge marker che posso mettere a mano se vado in edit mode. Posso per esempio aggiungo qua dei loop così titolo di esempio e li aggiungo anche qua giù. Seleziono tutti questi loop. E posso marcare questi edge come sharp. Appaiono come linee nel mio oggetto gris pencil perché ho selezionato questi crease. Potrei anche marcarli apposta invece che come adesso ne cancello il clear sharp e potrei mettere mark freestyle edge. E in questo caso è una marcatura di tipo diverso e nel mio oggetto gris pencil è qui edge mark. Quindi posso marcare non solo con sharp e quindi usare crease ma posso marcarli apposta come bordi di freestyle e quindi in questo modo avere degli appositi bordi disegnati. Le opzioni sono davvero tante. Mi soffermo solo su quelle principali appunto. Per esempio potrei disattivare qui quindi mettere con questo spessore di 50 disattivare alcuni di questi per esempio le intersezioni, gli edge mark e i crease e andare ad aumentare anche 75 il bordo qui e quindi adesso ho questi bordi più grossi beh forse 75 troppo. Facciamo 60 e adesso potrei duplicare questo oggetto lineart e ora che ne ho un altro e su questo potrei togliere i bordi e le altre voci, riattivare quelli che avevo disattivato e scegliere uno spessore più sottile. Quindi 30 ed ecco quindi che posso avere uno stile diverso per linee diverse usando due modifier. Avrei potuto anche aggiungere un secondo modifier quindi guardate invece di avere due oggetti grease pencil il primo modifier lineart lo duplico e sul secondo modifier lineart vado a fare le variazioni che avevamo detto e quindi ecco quindi può essere anche lo stesso soggetto quindi questo potrebbe essere lineart bordi e questo potrebbe essere lineart interne e ovviamente possono anche finire su due layer diversi quindi se io qua ho lines questo potrebbe essere bordi e poi potrei creare un altro layer che chiamo linee interne lo sposto in giù giusto per averlo sotto e quindi potrei dire che la lineart bordi deve scrivere sul layer bordi e lineart interne deve scrivere sul layer linee interne in questo modo vengono scritti su layer diversi e quindi se avessi un altro modifier ancora quindi per esempio un modifier length che allunga un po le lunghezze e lo faccio fare però influenza solo su layer bordi tolgo la curvatura e appunto aggiungo magari facciamo 0,02 0,02 e ho i bordi che escono leggermente creando per esempio un effetto che potrebbe essere un po più disegnato a mano perché ho fatto uscire i bordi potrebbe esserci un noise quindi avendo separando in livelli può essere utile per quello perché posso decidere poi di applicare certe cose solo a certi bordi e quindi per esempio adesso qua sulle linee interne ho messo un noise che cambia un pochino la strength e lo spessore solo delle linee interne quindi ecco che questo generatore di disegni line art è molto molto utile per disegnare da solo fondamentalmente viene generato in tempo reale quindi spostando la telecamera le cose cambiano se io volessi animare la telecamera siamo poi al fotogramma 100 vado a mettere la camera in un'altra posizione seleziono la camera faccio i location e rotation poi torno al keyframe 1 la metto qua giù i location e rotation della camera e adesso se faccio play o il movimento di camera e le linee che vengono generate al volo potrebbe essere impegnativo in tal caso una delle opzioni di questo modifier è di poter fare il bake di queste linee quindi guardate se lo guardo anche da fuori e mi muovo posso notare che le linee cambiano mentre vengono disegnate perché la camera si sposta c'è la possibilità di fare un bake cioè di trasformarle effettivamente in disegno finito vedete qua sotto bake cioè ci sono le varie opzioni in particolare vedete questo è bake line art all fare il bake di tutti gli oggetti gris pencil che hanno un modifier line art adesso lo faccio questo all per tutti quindi adesso ho fatto il bake di tutte le linee e posso notare selezionando l'oggetto gris pencil che qua giù ci sono i keyframe e quindi il modifier rimane qui lo vedete in rosso e c'è la possibilità di fare clear in maniera magari di rigenerarle però adesso tutte queste linee nei vari keyframe sono state generate e quindi sono anche a disposizione per l'eventuale modifica se io vado uso sempre lo sculpt mode per praticità però vedete adesso le posso spostare perché esistono in quanto singoli disegni quindi vedete adesso ho fatto questo ritocco in questo punto qua quindi fare il bake vi permette di trasformarle in disegni effettivi e quindi anche volendo di togliere del tutto potete cancellarli o rimuovere del tutto gli oggetti dal quale dal quale sono generate o potete anche metterli appunto altrove se voglio annullare il bake adesso cerco un attimo un fotogramma ecco dove ho fatto le modifiche vedete appunto è in rosso vi informa che questi valori hanno sono stati diciamo beicati e posso fare clear e adesso ho cancellato tutti come vedete qua i keyframe non ci sono più sono stati cancellati e adesso di nuovo quindi le linee sono generate al volo e quindi eventuali modifiche che avevo fatto le ho perse questo è un modifier potente perché permette appunto di partire da oggetti 3d e ottenere disegni gris pencil ha moltissime opzioni che riguardano anche l'occlusione cioè quanto le cose che stanno davanti coprono quelle dietro ho fatto tutti questi esempi applicandoli all'intera scena è possibile applicare questo modifier anche solo a un oggetto e quindi vedete adesso sto cambiando quella dei bordi mi chiede quale se io scelgo solo questo oggetto viene applicato solo a questo oggetto oppure a una collection quindi se avessi due palazzi in una collection diversa creo una collection apposta per le linee adesso questi due palazzi sono su quest'altra collection nella mia line art potrei scegliere collection e scegliere collection linee e allora viene utilizzata quella collection e questo bordo grosso appare solo lì e altrimenti appunto potete anche invertire quindi tutte le altre collection tranne questa quindi ci sono le solite opzioni diciamo e appunto potete generare con con materiali diversi ammettendone tanti uno dietro l'altro potete anche decidere di layer e materiali diversi per ognuna delle linee quindi modifier molto molto completo che vi invito anche a guardare in tutte quelle opzioni che sono aggiuntive qua giù e che servono a dettagliare meglio il modo in cui le linee interagiscono tra loro e con le geometrie grazie e alla prossima